Marika è componente della Virgo Collaboration, dove fa da coordinatrice di un programma più ampio che non sto qui a spiegare e che vede insieme tanti ricercatori di tutto il mondo. Le vorrei chiedere proprio questo, il suo ruolo per arrivare a portare alla luce questo nuovo mistero. Dunque, io sono coordinatrice del gruppo che manda gli allerta di onde gravitazionali a tutti gli astronomi nel mondo. Il 17 di agosto è successo che intorno alle 2 è arrivato questo alert che a me arriva nel telefonino e ci siamo collegati tutti con i siti a Enford, Livingston e a Cascia. Che cosa arriva al telefonino? È un messaggio, quindi un suono e io so che è arrivato un alert gravitazionale, che forse è un segnale di onde gravitazionali attraversato la Terra. A quel punto ci colleghiamo tutti online, parliamo con le persone che sono ai siti, ai nostri rivelatori, quindi l'Aigo e Virgo. E nel tempo più ristretto possibile mandiamo questa allerta agli astronomi tradizionali, quelli che possono puntare i satelliti e i telescopi che sono a Terra. E perché è così importante questo momento? Allora il 17 è stato importantissimo perché abbiamo visto appunto la coalescenza, l'ultima fase della danza di queste due stelle di neutroni e la fusione. E sapevamo già in precedenza, la teoria ipotizzava la presenza anche di un segnale elettromagnetico. Abbiamo mandato quest'alert immediato agli astronomi. Abbiamo visto in coincidenza un segnale osservato da fermi, da satellite fermi nel gamma. Tutti i telescopi hanno cominciato a puntare la localizzazione da cui veniva questo segnale gravitazionale. E nella notte cilena, in una galassia che è NGC 4993, è comparso un nuovo oggetto, estremamente brillante. Questo oggetto è stato seguito da tutti i telescopi per due settimane. E abbiamo visto tutti i colori di questo oggetto. Questo oggetto era inizialmente blu, poi è diventato rosso, infrarosso. E in questi dati si è vista la formazione degli elementi pesanti nell'universo. Quindi la formazione anche dell'oro. Questa è una soddisfazione da ricercatrice, ma diciamo l'allerta è arrivata nella sua vita quotidiana. Perché Marika, oltre ad essere una scienziata, è anche una mamma, una moglie. Ecco, come si conciliano queste due facce della stessa medaglia, diciamo? Si riesce ad essere donne, scienziate, mamme. I miei bimbi sono nati con le onde gravitazionali perché uno ha due anni e l'altro dieci mesi. Vivono con gli alert, quindi ogni tanto vedono una mamma che fugge e si collega al computer. Si riesce a fare tutto e gestire questa vita nella scienza e con i bambini.